Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! Ha risolto giallo! Ebbene, è successo. Finalmente non abbiamo più l'assorgato qui che mi rompe le scatole, mi impedisce di fare una puntata di risolto giallo. Finalmente questa per me è una serata, anzi mettiamo anche giornata epica. La rivincita! Esatto, questa è una grande rivincita per me. Mazzavillani rivincita! E come avete notato, vabbè Niccolò Mazzavillani ormai lo sapete, ma al mio fianco c'è colei che è venuta penso più volte di tutti gli ospiti qui a risolto giallo, la Paola Varalli. Benvenuta! No, faccio finta di essere l'assorgato, anche se lei è più bella, ma insomma. Allora, diciamo che vista la posizione, io oggi sono l'assorgato e tu invece sei Mazzavillani. Passami degli occhiali qui. C'è già un clima dinamico. Ma questa sera abbiamo un nuovo ospite, vero Paola? Sì. Ovvero Davide Rigoni! Benvenuto, benvenuto Davide. Grazie, ciao a tutti. Benvenuto. Allora, purtroppo questa sera ti tocca essere qui solo con me e la Paola Varalli. Tu questa sera tra l'altro sei qua con il tuo romanzo La Gola del Diavolo. Esatto. Che di solito Alessia, come ormai avrete capito, è colei che divora i libri e quindi li presenta, li ha spulciati, li scarabocchia, tutti si fanno i suoi appunti. Io no, io purtroppo non sono, io sono quello che fa sempre le domande più generali, quelle che Alessia non fa. Mazzavillani è un disturbatore. Esatto, esatto. La sera faccio io però. Però questa volta devo cercare di essere un po' più composto, perché appunto la figura dei Mazzavillani questa sera è la Varalli. Quindi iniziamo subito Davide e ti chiedo di parlarci appunto di questa Gola del Diavolo. È un romanzo giallo, è un giallo storico, ambientato ai tempi del disastro della Diga del Vaillant, quindi nei primissimi anni Sessanta. È la storia di questo brigadiere dei Carabinieri che si chiama Tiziano Bortot, che nella sua placida e tranquilla esistenza fatta di routine, a volte di noia e di tentativi di schivare le difficoltà della vita, si imbatte in quello che sta succedendo con l'impresa costruttrice e in tutto quello che viene nascosto alla popolazione, nonostante i timori della popolazione sulla costruzione della Diga. Tutto quello che l'impresa costruttrice ha tenuto nascosto in termini di pericoli, in termini di regole non rispettate e suo malgrado si trova coinvolto nella vicenda e farà di tutto per portare alla luce la verità e per proteggere la popolazione. il romanzo è basato su quelli che sono dei veri eventi, quindi c'è una storia di fantasia cronologicamente innestata sulla vera cronologia del disastro. Ci sono dei personaggi... Come se fosse una visione in tempo reale di quello che sarebbe successo. Esatto, ci sono dei personaggi reali che si muovono insieme a quelli inventati, quindi c'è un incasso tra realtà e fantasia, ci sono dei documenti che sono quelli reali emersi nel processo, così come le azioni dei personaggi reali sono le azioni che hanno realmente compiuto i tempi. Quello che dicono è quello che hanno veramente detto ai tempi, sono tutte cose emerse dai processi, quindi documentate, non c'è nulla di inventato in questo e su questo si muove la vicenda di fantasia del brigadier Bortot, di sua moglie Adele, che è un personaggio altrettanto importante, e delle sue indagini per scoprire ciò che sta succedendo. Poi chiaramente il proseguire la storia è lasciato a chi vorrà leggerlo per scoprire cosa succede, anche perché di fatto è un giallo, basato su documenti reali, su tante cose storiche, ma è un vero e proprio romanzo giallo. Di cui il Monte Toc è uno dei protagonisti. Sicuramente sì, è addirittura il primo personaggio che entra in scena, fin dal prologo della vicenda, ed è un personaggio inanimato, ma sempre presente anche se silenzioso. Si, gli hanno scavato i piedi, pare, gli hanno bagnato i piedi, dicevano. Paolini ha fatto un grande spettacolo sul vaiolto che avevo visto. Lo spettacolo di Paolini è un po' la vibbia di tutti quelli che si sono interessati, per lo meno della mia generazione, perché chi magari l'ha vissuta in prima persona ai tempi ovviamente ha una conoscenza diversa, ma per chi si è avvicinato posteriormente è lo spettacolo di Paolini e la Bibbia, insomma. Anche se poi per documentarsi ci sono tanti altri testi e anche tante altre, non dico versioni, ma comunque prese di posizioni differenti. C'era un importante giornalista, se ricordo bene, che ha fatto una grande guerra. Sì, era Tina Merlin, che è quella che ha per primo portato alla luce tutto quello che stava succedendo. Io ho scelto di non metterla nel romanzo perché era un personaggio molto ingombrante. Avrebbe un po' oscurato il resto e avrebbe dato un taglio poco romanzato e troppo giornalistico alla storia. Però c'è comunque un personaggio di un giornalista che ho inserito io, che mette insieme due o tre giornalisti che hanno lavorato alla vicenda, tra cui anche Tina Merlin, quindi è un concentrato di personaggi reali. Un concentrato di giornalisti. Esatto, ma di fantasia. Hai detto che, perdonami, il romanzo è ambientato nel… In pratica nel 1962-1963, quindi l'ultimo periodo prima della tragedia che è avvenuta il 9 ottobre del 63. Ok. Questo, immagino che ti abbia richiesto anche un lavoro di ricerca notevole. È stato lungo? Hai avuto difficoltà a trovare i materiali che ti sarebbero serviti per scrivere il tuo romanzo? Oppure no, l'hai trovato con facilità? Ma è stato un lavoro abbastanza impegnativo, in parte già fatto, nel senso che io mi sono sempre… sono sempre rimasto colpito da questa storia, fino a quando ero bambino, ed è da lì che è nata un po' la mia, fra virgolette, passione per questa vicenda. E quindi negli anni io mi sono documentato, ho visto spettacoli, ho letto libri per me, per mia curiosità personale. Quando poi ho avuto l'idea del romanzo, ho necessariamente integrato con ovviamente tante cose alternative, a partire dai documenti e dalle testimonianze del processo, che sono fondamentali per far muovere i miei personaggi, anche perché essendo personaggi veri non potevo rischiare di fare cose un po' troppo strane, quindi dovevano essere molto coerenti e consoni a ciò che è successo veramente. Sicuramente mi ci ha voluto quasi un anno da quando ho deciso di scrivere il libro a quando ho iniziato fisicamente la scrittura. Esatto. Hai detto che questo evento ti interessava fin da bambino e la domanda che ti voglio fare è come nasce invece il tuo rapporto con la scrittura? Se questo evento ti ha addirittura anche magari segnato dal punto di vista che volevi parlarne anche tu, oppure se è una cosa completamente distaccata. Io ho sempre amato scrivere fin da bambino. Scrivevo racconti, scrivevo storie divertenti con i miei amici come protagonisti, senza mai incanalarle in qualcosa di serio e di strutturato. Qualche anno fa ho deciso di provarci seriamente, ho scritto il mio primo romanzo che è uscito nel 2021. Sempre per lo stesso editore? No, era per un altro editore che si chiamava Placebook Publishing. Il romanzo si chiama L'ombra della Chiappassogni ed è un thriller poliziesco, se vogliamo, tradizionale, nel senso che è una storia di fantasia completamente creata da me, con un taglio più classico e più orientato verso il noir. Però non si svolge a Milano. No, non si svolge a Milano, è ambientato a Londra. Un po' preoccupati, Mazza. Com'è sta storia qui? Ormai ci siamo allargati, ci siamo allargati, non siamo più rimasti solo a Milano. Non siamo ristretti di mentalità, eh Mazza. Mazza Villani, smettiamola di essere ristretti. No, no, infatti, assolutamente, guarda, io sotto questo aspetto sono assolutamente d'accordo. E cos'altro ti volevo chiedere, Davide? Non me lo ricordo più e quindi adesso lascerò la... Quindi no, no, stavamo dicendo di come sono arrivato a scrivere del marion. A Londra, il primo? Sì, mentre stavo scrivendo quello ho avuto questa idea, ho messo insieme quella che è una storia che è sempre stata presente nella mia mente, perché l'ho sempre... ho sempre cercato di seguirla, di documentarmi in modo costante, ho avuto questa idea e ho deciso che sarebbe stato l'argomento del mio secondo romanzo. Ma è del tutto casuale, non c'era un disegno predeterminato, è stata un'ispirazione come per qualunque altro romanzo. Esatto, esatto, ho detto così potrebbe funzionare, potrebbe essere una storia interessante, ho messo insieme quella che era un interesse personale con il secondo romanzo e alla fine devo dire che è stata anche un'idea vincente, perché alla fine il romanzo sta andando bene. Sei soddisfatto di questo lavoro? È in ritampa, perché la prima attivatura è andata esaurita, per cui insomma i riscontri sono stati molto positivi, c'è stato interesse, ci sono stati anche dei risultati concreti, quindi è stata un'idea che ha funzionato, insomma. Certo, certo. Anche sicuramente riguardo l'argomento ha fatto sicuramente interesse sotto questo aspetto, ha vogliato molto di più anche nel sapere, appunto avere una visione sotto quanto è successo. Quindi tu hai iniziato da racconti di fantasia? Sì, sì sì, io ho sempre scritto racconti brevi, non è un genere che mi piace moltissimo, però mettendo insieme un po' il tempo a disposizione, fare le cose un po' così come proprio passatempo mi portava a fare quello, ed è stato lì che ho pensato, però a me interesserebbe fare qualcosa di più strutturato e di più serio. Con il tempo ho avuto l'idea del primo romanzo, ho iniziato a scriverlo e sono arrivato a pubblicare quello e poi da lì ho continuato, insomma. E il tuo romanzo è questo di cui stiamo parlando? Il secondo? Nella zona del Vajonte è venduto, è apprezzato? Sicuramente nella zona del Triveneto c'è un bacino d'utenza e di lettori molto più ampio che nel resto d'Italia. Perché lo tocca da vicino. Lo tocca da vicino. Ma veramente è una storia di cui mi sono reso conto, c'è un interesse e un'attenzione e una memoria maggiore di quelli che pensavo, e dico fortunatamente perché è una cosa che non andrebbe mai dimenticata, e certamente chi vive da quelle parti che l'ha vissuta e magari l'ha ancora presente in modo molto più vivo, anche a livello emozionale, di quello che può avere qualcun altro, da quelle parti ha avuto molto interesse. Poi la mia casa editrice che è la CR Edizioni è Veneta e nel tempo ha pubblicato comunque anche se più saggi o libri giornalistici, comunque ha pubblicato tante cose che sono relative al Vajonte, ha sempre avuto un'attenzione molto importante per questa vicenda e ha anche spinto molto, una volta uscito il libro, in termini di promozione, di distribuzione per diffonderlo, quindi c'è stato anche un bel lavoro da parte loro. Quindi quando tu l'hai presentato alla casa editrice ti hanno subito detto di sì, non è stato facile. Sì, avevo già puntato loro come possibile editore, mi sono proposto a loro. C'era già un disegno. Perché sapevo che potevano essere l'editore ideale per questo romanzo e ci siamo anche trovati molto bene a livello personale, c'è stato subito interesse da parte loro e quindi è stato un incastro di cose che ha funzionato molto bene. Questa è un'ottima cosa, perché in fondo, adesso non dico che sei un esordiente, però quasi, possiamo dire romanzi. Per romanzi non è facile per gli esordienti, sappiamo pubblicare, invece sei stato, anche perché secondo me, per quanto capisco, hai subito puntato sulla casa editrice giusta, perché questo è una cosa, secondo me, che gli esordienti devono tenere conto, perché magari mandi il tuo romanzo, lo mandi, che ne so, a Inaudi, a Feltrine, e magari non è adatto, invece hai la casa editrice giusta, quando gli mandi la sinosse eccetera, cosa funziona? Infatti, anche qua a Risolto Giallo, sono passati diversi autori che all'inizio avevano avuto un po' di difficoltà nel farsi pubblicare e a volte è stata proprio una botta di fortuna il fatto che il loro romanzo venisse apprezzato e compreso, quindi tu avevi proprio un disegno. Sì, io conoscevo già la casa editrice proprio perché avevo pubblicato delle storie interessanti sul Vaillant, testimonianze, libri storici, non romanzi, però che io avevo letto e ci ho un po' scommesso perché in realtà loro pubblicano pochissimi romanzi, però credevo che potesse esserci un interesse e così è stato. E l'hai trovato, infatti è un'ottima cosa, no? Eh sì, sì, infatti volevo chiedergli adesso se, visto che, come ha detto... Qui l'ha sorgato De Noartri? Esatto, la signorina Varalli che è qui con me. Tu sei praticamente quasi esordiente e pensi di aver già trovato, come possiamo dire, il tuo stile, il tuo genere in cui specializzarti, oppure in questo momento stai ancora un po', come dire, esplorando, sperimentando un po', hai iniziato adesso con un giallo storico, adesso magari vuoi dedicarti a provare a scrivere qualcos'altro di un altro genere? Ma il genere, lo stile letterario su cui mi muovo in modo più naturale, quindi su cui mi sento più, a mio agio, sono diciamo nella mia comfort zone, è quello del primo romanzo. Un thriller a cliente noire, d'azione poliziesco, con la piena libertà di scrivere una storia di fantasia, tant'è che sto lavorando alla seconda avventura del protagonista del primo romanzo. Ah, ma tu stai già anticipando una domanda che di solito noi facciamo alla fine. Allora la tengo per dopo. Seriale, mi diventa seriale. Il secondo romanzo, Il giallo storico, lo considero più una parentesi, nel senso che l'idea è nata proprio perché volevo specificamente scrivere di questa storia. Certo. Però in generale sono una persona, quindi anche uno scrittore e un lettore curioso, e non mi piace incasellarmi o avere un'etichetta troppo definita. Ok. Non mi precludo niente. Mi piacerebbe scrivere una biografia, ad esempio, in futuro. Su chi, per esempio? Cioè, su una figura... No, non ho un'idea particolare. Ah, ok. Mi piacerebbe cimentarmi in questo tipo di scrittura. Ah, ok, ok, ok. Quindi sono aperto a tutto quello che mi verrà in mente di fare da questo punto di... Beh, ghostwriter. Mi diventa ghostwriter. Ah, beh, sì. Perché le biografie spesso ti vengono richieste. Eh, qui abbiamo... Ma sarei... Eh, no. Sarei curioso anche di cimentarmi in una cosa del genere, perché comunque alla fine purtroppo o fortunatamente non vivo di scrittura e quindi ho la libertà di fare quello che mi passa per la testa senza preoccuparmi di dover... Curiosità, che lavoro fai tu? Io lavoro... Perché di solito, te lo chiedo, perché di solito noi abbiamo scrittori di romanzi storici che poi fanno un lavoro totalmente slegato dall'ambito umanistico, lavorano, fanno ingegneri e... Sono uno di quelli. Ah, fantastico. Quindi anche tu ti unisci al gruppo. Io lavoro per uno spedizioniere internazionale come commerciale, quindi non c'entra assolutamente nulla nell'ambito umanistico. Bel lavoro, conosco. Sono tutto sui bilici. Sì, noi ci occupiamo di via mare e via aerea principalmente, quindi faccio tutt'altro. Quindi hai unito comunque una tua passione. Sì, è qualcosa che mi porto dentro da sempre, dall'infanzia e ho deciso, insomma, di... Certo. Quando mi appassiono a qualcosa mi piace non farla superficialmente ma andarci a fondo e questo è uno degli esempi, insomma. Certo. Ti faccio un'ultima domanda io, poi lascio la parola alla Varalli. Tu hai detto che hai voluto prendere, a proposito di questo disastro, personaggi reali che sono davvero esistiti e anche personaggi di fantasia che hai creato te, tra cui i protagonisti che ricordiamo sono... Sono il brigadiere della locale caserma dei Carabinieri che si chiama Tiziano Bortot, sua moglie Adele, uno dei dirigenti della Sade che è l'impresa costruttrice della Diga perché fisicamente mi serviva un personaggio di fantasia nel loro mondo per potermi muovere liberato. Eh sì, capisco anche perché. Perché altrimenti avrei avuto troppi vincoli lavorando solo con i personaggi esistiti. Certo. E un giornalista che è il primo, diciamo, a interessarsi alla vicenda, che nel romanzo si chiama Stefano Bertaggia. Questi sono i personaggi principali creati da me, diciamo. E questa è una domanda che di solito noi, Varalli, facciamo agli autori che vengono qua. Se c'è un lato, c'è qualcosa dell'autore nei suoi personaggi, abbiamo, a seconda dei vari casi, abbiamo avuto opinioni differenti. Chi si ispirava, chi inseriva proprio, affidava a uno dei suoi personaggi una sua caratteristica particolare, una sua passione nascosta anche in certe situazioni. Oppure no, totalmente un personaggio completamente diverso da quello che è l'autore. Ecco. Nel tuo caso invece, in quale area siamo? Allora, volontariamente non c'è niente di me. Ah, ok, perfetto. Io ho sempre cercato di creare un personaggio che funzionasse dal punto di vista letterario, che avesse determinate caratteristiche funzionali alla storia. Piuttosto mi riesce facile ispirarmi a qualcuno che conosco, che non è me stesso. Poi credo che inevitabilmente qualcosa di me ci finisca dentro. Certo. E' impossibile farne a meno. Per cui entri nella storia e la storia ti prende anche come scrittore e tu fai agire le persone, perlomeno i protagonisti, quelli principali, tendi a dare dei lati della tua personalità e a farli agire in certe situazioni come faresti tu. A volte me ne accorgo anche scrivendo e dico, accidenti, qua sono più io che il personaggio. Però non è una cosa voluta, è una cosa naturale. No, no, ma credo, come ha detto anche Lavaraglia adesso, è inevitabile, secondo me, da parte di un autore, è veramente difficile non intervenire. Sì, sì, assolutamente. Penso che sia una cosa più forte di lui o di lei. Sì, anche se non vuoi qualcosa ci metti dentro. Sicuramente. Io ho un'altra domanda invece che mi incuriosiva mentre parlavi, pensavo a questa cosa. Parlare degli anni, i calarti per l'esattezza, negli anni 60. Quindi il linguaggio potrebbe essere leggermente diverso. Ci sono delle cose che non c'erano adesso e che allora non c'erano. Hai avuto difficoltà? Difficoltà? No, ma sicuramente ho cercato di farlo nel modo più corretto possibile e ho cercato di documentarmi anche da quel punto di vista. Sia nella ricerca della topografia, perché comunque si parla di un paese che è sparito. Ah, certo. E quindi ho dovuto studiare anche la topografia del paese dell'epoca con le vie, le strade, le osterie che erano fondamentali. Per quello che riguarda il linguaggio, i personaggi, soprattutto la moglie del protagonista, si esprime molto spesso in dialetto. Quindi mi sono documentato sul dialetto bellunese, che è quello della zona. Anche nelle parti più di fantasia delle mie storie, io cerco di fare in modo che siano plausibili e verosimili. Dico sempre che mi piacerebbe, o mi piace, mi piacerebbe come risultato, scrivere storie che potrebbero accadere realmente nella vita di tutti i giorni. E quindi storie che, diciamo, non sono ancora successe, trattando di omicidi per fortuna. No, quelli facciamo a meno, però. E quindi in questo senso la parte di ricerca dei luoghi, sulle condizioni di vita, sulla società, sono una parte integrante del preambolo alla scrittura. Certo, certo. Adesso purtroppo noi ci dobbiamo salutare, Davide. L'ultimissima domanda che appunto stavi, avevi in parte risposto prima, in questo momento stai scrivendo, cosa stai scrivendo? Sto scrivendo il mio terzo ipotetico romanzo, insomma, è in lavorazione ed è una nuova avventura del protagonista del primo romanzo. Il protagonista era un detective di Scotland Yard, italo-inglese, che si chiamava Andrew Sozzi, e sto scrivendo una sua nuova avventura. Quindi sempre un giallo storico. Un thriller poliziesco, senza nessun riferimento reale, totalmente di fantasia, ambientato ancora a Londra, con indagini, omicidi e tutto quello che fa parte dei thriller polizieschi noir, insomma, più tradizionali. Ottimo, e noi saremo qua ad aspettarti. Certo, magari l'ha sorgato al posto mio, che è il suo mestiere e io sono imbucata. Non al posto mio, possibilmente, perché io ormai sono una colonna portante, ormai posso, dopo questa puntata io posso fare quello che voglio. Ha preso il potere, ragazzi, siamo rovinati, ve lo dico. Esatto, e dopo questa io ringrazio il nostro ospite Davide Rigoni, io ringrazio Paola Varalli per essere stata qui con me questa sera per avermi tenuto compagnia e che dire, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Risolto Giallo. Ciao! Grazie, buonasera a tutti. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! Risolto Giallo!